buongiorno carissimi amici lontani vicini lontani oggi ho detto boh una bellissima giornata di sole vado a fare una piccola camminata da casa a qui sono dove la rocca di moffelcone ci finna di gente quella resche e che dire stanno facendo mettendo a posto la rocca in un museo storico panteologico però adesso vi faccio vedere vediamo se si può ecco questa la rocca di moffelcone cima della città di moffelcone ecco sono qui ho fatto una piccola camminata fa smaltire la ciccia come si dice qui sono di una bellissima giornata di sole ho detto boh facciamo una piccola camminatina dai vediamo che forse sanno abbastasciuta da 200 grammi che dire forse coraggio andiamo avanti adesso vi faccio vedere ecco qui moffelcone dall'alto che è evo che dire per speciale 20 iscritti faccio questa diretta qui spero che piaccia una buona giornata buon pomeriggio a tutti i miei amici vent'anni vicini lontani sotto luce ciao amore è che dire forse coraggio sono tutti che dormono messa o sono che lavorano se facciamo più tardi la dicevo forse video più gente boh è che dire un po stanchino ho fatto era da tanto che dicevo di venire su oggi una bellissima giornata è che dire vi voglio bene grazie ancora grazie che vi iscrivete saluto tutti sotto tutti sotto tutti i colleghi colleghe sotto valentina ciao valentina come va il nuovo lavoro ma qui scriviamo in privato e che dire forse coraggio andiamo avanti sono un po stanchino adesso mi riposo qui prendo un po di aria e poi tornerò per dire centro e poi dato casa riposare un pochino vi auguro una buona giornata voglio bene saluto tutti vicini lontani e non vicini un bacio ciao amore saluto mamma e papà per vedere dove sono arrivato vi faccio vedere la rocca di nuovo adesso qua fino a qua c'è la strada che arriva il lago di pittra rossa eccetera eccetera altri posti oggi una brispa giornata di sole così passa il tempo rilassato un po cos'è mi rilasso un po quando un po sole vi voglio vi voglio bene un bacione questa direte ricordo sarà su youtube c'è di citate franco tontrar su youtube o la pagina di facebook pagina franco tontrar sul mio diario iscrivetevi il mio canale mi raccomando fate conoscere questo il canale youtube e così voglio una buona giornata grazie di tutto vi voglio bene tutti ciao ciao maria spero che ti piaccia facendo questa diretta ho cambiato location e ora sto qua un pochino prendere aria dopo torno centro e poi da casa un bacio alla prossima